Il bar è un bar che non frequento da quando ci sono questa gente qui, non ci si andava più noi. Era stato chiuso la scorsa settimana il bar Europa nel corso del Maxi Blitz della Polizia a Saione, quartiere alle porte del centro a Retino, ma solamente per motivi genici. I tecnici della ASL avevano infatti riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e ne avevano così disposto la chiusura sino al ritorno alla norma dei locali. Ai gestori inoltre era stata fatta una multa da 3.000 euro, ma a pochi giorni di distanza dall'operazione il bar ha già riaperto le sue porte. Non so perché, perché l'hanno fatto chiudere diverso tempo, ma dice che sia stato lui a chiamare questa gente perché non riusciva a buttarli fuori se aveva la droga. A me personalmente ultimamente mi fa paura questa storia, tanto per andare a casa a piedi con la borsetta, la sera al buio, quando esco dal lavoro e anche quando rimango delle volte in negozio da sola, insomma, no, non siamo più tranquilli. All'interno del locale i poliziotti avevano trovato ben 60 dosi di cocaina e roina già confezionate, pronta dunque per essere spacciata. La droga era stata nascosta in ogni angolo del bar. Erano così finiti in manette due pusher entrambi tunisini. Uno dei due all'arrivo della polizia si era addirittura barricato all'interno del bagno. Noi abbiamo poi sfondato la porta, l'abbiamo trovato appunto mentre stava cercando di disfarsi della sostanza, cercando di tirare giù l'acqua e di disfarsi della cocaina. Siamo fortunatamente comunque intervenuti in tempo, abbiamo sequestrato tutto. Adesso però un nuovo ordine di chiusura potrebbe arrivare dalla questura di Arezzo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.